Ciao ragazzi, mi trovo in compagnia di Maria Teresa Bozzano, studentessa del primo anno di Scienze della Comunicazione. Ciao Maria. Ciao a tutti, sono in compagnia di Matteo Toscano, uno studente di Scienze della Comunicazione del campus di Savona. Tu parteciperai al progetto Ideona, che si terrà qui a Savona. Cosa ne pensi di questo progetto? È un progetto che va a arricchire gli eventi dell'estate savonese, è un progetto ricco soprattutto di altri piccoli evenimenti al suo interno. Sappiamo che molti del campus collaboreranno proprio con questa iniziativa. Lei che ruolo avrà innanzitutto? Io ho il ruolo di intervistatrice. Tu pensi che questa sia una buona opportunità per gli studenti della tua università? Assolutamente, è una buonissima opportunità. Tra gli ospiti sappiamo che ci sarà, ad esempio, Santoro e Teoteoccoli. Lei cosa ne pensa di questi grandi ospiti che comunque in una città come Savona non ci sono mai stati? Sì, secondo me è comunque una cosa positiva. Tra i vari ospiti sarà presente anche il nostro professore, Fercero. Professore di semiotica, se non sbaglio. Sì, il quale organizzerà anche dei workshop. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Evra Rod, Evra Rod, Evra Rod, Evra Rod. Ammazzati.